Ciao ragazzi, ben ritrovati all'interno di questo nuovo video, mi avete chiesto in tantissimi questo video e sono qui per farlo Mi avete chiesto come personalizzare i controller, come cambiare i comandi per il controller qua all'interno di StumbleGuys Oggi vi vado a spiegare la tecnica, l'unica tecnica attualmente funzionante, mi raccomando però te iscriviti al canale se non l'hai ancora fatto Lascia like, commenta e passa il live il pomeriggio alle ore 17, 17.30 E soprattutto seguimi su Instagram e TikTok, abbonati al canale, hai la possibilità di farlo qua su YouTube 99 centesimi al mese Oppure gratis su Twitch attraverso l'utilizzo di Amazon Prime Spostiamoci però subito all'interno del mio profilo di Stumble che è quello che utilizzo io dall'interno del mio tablet Quello che uso anche per le live cose Perché vi devo raccontare una cosa, vi spiego subito Quando voi collegate il controller tramite il Bluetooth non avete appunto l'opportunità di cambiare i comandi Purtroppo è una piccola pecca questa, non c'è l'opportunità di cambiare i comandi qua all'interno di StumbleGuys C'è l'unica soluzione possibile ragazzi, ne ho trovate di tutti i colori, le ho provate veramente in tutti i modi Non sta nell'utilizzo dell'iPad purtroppo Quindi se giocate da telefono o iPad o tablet non avete l'opportunità di cambiare i tasti del controller Questo perché? Perché ragazzi purtroppo questo metodo che vi sto per presentare vale soltanto nel caso qualcuno di voi utilizzasse appunto il PC Tramite il PC c'è l'opportunità di giocare col controller con i tasti che volete voi Come si fa? Bene ci spostiamo subito all'interno del mio desktop tutto perché è il mio desktop E vi faccio vedere subito, dovete scaricare un'applicazione che si chiama Nox Ok io ho già fatto dei video a riguardo, li trovate anche nella playlist di Rocket League All'interno di Nox in realtà non è niente di particolare Voi avete l'opportunità di andare a scaricare un qualsiasi tipo di gioco che c'è sull'iPad Lo potete scaricare all'interno di Nox, vi faccio vedere subito, guardate Adesso voi vedete il mio desktop intero Appena si apre Nox vi faccio subito vedere come funziona perché è una metodologia molto molto valida Una volta che avete scaricato Nox, adesso si sta un attimo scaricando, ok Mettete Tablet is the starting, questo qua è una sorta di tablet Vedete che io avevo Rocket League Sideswipe perché l'avevo dovuto scaricare per cose particolari Insomma avevo dovuto fare delle robe in particolare Tranquilli ragazzi non è niente di che Se voi tornate alla home del vostro dispositivo Se schiacciate Search for Games Non così, dovete andare di qua Nel vostro Nel vostro non così, aspettate un attimo Ecco Play Store, eccolo qua, ce l'abbiamo qua sopra Nel vostro Play Store Una volta che avete appunto scaricato, avete partecipato al Play Store e tutto Basta che vi scarichiate StumbleGuys, ok? Una volta che scaricate StumbleGuys qua all'interno del Play Store La situazione è molto molto semplice Perché voi avete l'opportunità di schiacciare questo tasto qua Collegate il controller e andate su Impostazioni Controller, ok? In questo caso vi diranno Controller Deflected Perché appunto io non ho ancora il mio controller Una volta che collegate il controller ragazzi Il gioco è fatto, ok? Adesso prendo il mio controllerino Faccelo qua, velo velo pronto E lo appicchiamo alla grande Lo appicchiamo velocissimo Guardate qua, eccolo qua Lo prendiamo Si fa così, si collega al PC Senza troppi problemi Dovete però prima scaricare il gioco Basta andare quindi su Play Store, ok? Per andare su Play Store vi faccio vedere al volo Perché forse non si è visto bene come fare Basta andare qua nella sezione Delle applicazioni Dovete andare su Tools, ok? Andando su Tools No, ecco, questa qua è la galleria Forse era meglio non aprire la galleria Mannaggia, la miseria Dovete fare Tools Vi spostate di uno E c'è il Play Store Molto, molto easy Scaricate e vi verrà qua fuori, ok? Come un classico installare Una classica installazione sul Play Store Una volta collegato il controller Vi basterà schiacciare questo tasto qua Andare su Impostazioni Controller E ragazzi, qua voi potete automaticamente cambiare le impostazioni del controller Voi direte Vapor, ma come caspita hai fatto a trovare questo metodo? Ragazzi, vi posso assicurare che funziona Tipo Left Questo, ok? Questo qua è la levetta sinistra Te puoi decidere di cambiarla E di farla diventare in qualsiasi altro modo Insomma, sta tutto nelle tue mani Capito? Single click Avete l'opportunità di fare il multi-strike Di impostare un determinato tasto, ok? Cioè, potete fare esattamente quello che volete, ok? Proprio tutto, 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 tutto Left joystick, right joystick, single click Potete fare, ad esempio, l'utilizzato più frequentemente Questo qua l'utilizzato più frequentemente Potete andare a prendere, ad esempio, un single click, ok? E lo mettete, single click Lo mettete col tipo il tasto, schiacciate il tasto del quadrato, ok? Quindi vedete qua, cerchio, X, triangolo E lo andate a mettere sull'emote Ad esempio, qua ci sono l'emote all'interno del gioco Schiacciate così, quindi quando schiacciate il quadrato Lui è sull'emote E vi apre automaticamente l'emote, capito? Potete modificare come volete Tutti i vostri Comandi Questa qua è una cosa molto molto particolare Non so chi di voi la sapesse Però è clamorosa Vi consiglio ovviamente di provarla, ragazzi miei Ragazzi miei, io Questo qua è un tutorial importante Quindi condividetelo con i vostri amici Perché non penso che nessuno Abbia già fatto vedere una cosa simile in Italia Penso di essere stato uno dei primi E soprattutto Funziona molto bene, ok? Basta scaricare Nox Vi lascio il link per scaricare Nox Qua sotto In descrizione Lo scaricate Play Store Cavoli mazzi E poi siete belli che pronti E siete proprio nel chill, ragazzi Come non mai All'interno di Stambolino Gaisello Però c'è ancora qualcosa da fare Perché purtroppo si è rimasti un attimo Bloccatelli Perché le nostre 18 vittorie si iniziano A far sentire 18 vittorie importanti 3220 sono le nostre vittorie totali Attualmente all'interno del gioco Sono 3220 le coppe Ho in mente vari video Ok, ho in mente vari video Probabilmente uscirà un unboxing Sulle 35 skin epiche Ne volevo aprire 350 Uscirà un tutorial Su come collegare il pad al telefono Insomma, ragazzi Tenetevi pronti Qua sul canale Perché nei prossimi giorni Video a bomba Mi raccomando Se volete restare sintonizzati Basta iscrivervi E attivare la campanella Spero che questo tutorial vi sia piaciuto Naturalmente E come al solito Vi ricordo Ragazzi Like L'iscrizione Il commento L'attivazione della campanella Mi raccomando Condividetelo anche Perché vuol dire che vi è piaciuto Effettivamente molto Ti ricordo gli appuntamenti Ore 14 Tutti i giorni Molto molto semplice Da ricordarlo Qua sul canale Per nuovi video E ore invece 17 17.30 Live Qua sempre sul canale Mi raccomando ragazzi Carichi come non mai E niente Noi ci vediamo domani Qua alle 14 Sul canale Ciao belli Ci vediamo anche oggi Pomeriggi live Seguitemi su Instagram Maledetti Che lì metto tutto Che lì metto tutto